Il mercato di Chieti del venerdì va in passione. Una signora non più giovanissima questa mattina ha ricordato un'espressione tipica teatina che indica in questo caso un disagio ma senza drammi. La decisione presa dall'amministrazione Ferrara di accorpare tutte le bancarelle in via della liberazione pare non sia stata gradita da tutti. Adesso stamattina abbiamo fatto una riunione con l'amministrazione e sicuramente ci metteranno in condizione di ritornare tutto nel cercare di pianificare un po' tutta l'aria. Che significa pianificare e tornare al corso? Ritornare un po' al corso e un po' nella via 4 novembre e per cui il mercato verrà tutto pianeggiante e verrà messo nelle condizioni più agibile per tutti. Il mercato di Chieti è un appuntamento che va al di là dell'aspetto commerciale e più un luogo di incontro e se vogliamo, sempre usando un'espressione cara ai chietini, chiamiamoli con il loro nome, è l'occasione per fare una vasca, una passeggiata e corso marruccino. Non può che essere la location più adatta. Più bello per il corso e più bello. Anche per i commercianti, anche per i commercianti vendono qualcosa, rigiro un po', come speriamo che vada. Nel mercato teatino fa parte ormai anche il rapporto con l'assessore al commercio mano e il pantalone, pronta a dare appuntamenti per ascoltare e raccogliere in maniera attenta i feedback di commercianti e cittadini. Una sorta di laboratorio di idee che pare piaccia davvero tanto. La parte finale, diciamo, di via della liberazione è che non arriva, non ci arriva nessuno. Sono stati tanti i clienti abituali che si sono lamentati per questa dislocazione? Sì, un po' per la posizione un po' in discesa, chi deve comprare la roba alimentare, non può risalire con due e bustone di spesa. C'è qualche problemino, soprattutto per le persone un po' anziane, un po' così. Speriamo a chi torna. Al corso? Sì. Meglio il corso. Perché? Perché chi è anziano non può arrivare fino qua giù. Scusi, e c'è una gamba e mezzo, vengono tutte e due.